Un attimo Luise mi devi cortesemente per i nostri amici di Gennaro Mastra Pizzi mi devi spiegare la presenza qui oggi nella tua pizzeria, qual è il motivo principale? Allora, il motivo principale è la pizza con il goji, che è un prodotto salutare che noi vorremmo, avremmo fatto il pensiero di aggiungere nel nostro impasto, però non tutto l'impasto che ne facciamo generalmente, dedichiamo una parte di impasto a questo esperimento. Quindi è un pomodoro, però non essiccato, fresco, tibettiano, che è salutare sotto vari punti di vista, quindi ha effetti benefici in vari settori del nostro corpo. Quindi adesso stiamo valutando se il sapore altera la pizza. È un esperimento questo. Che noi faremo. Questo è il primo argomento che volevamo precisare per il voto di oggi. Il secondo è che ci sono loro. Sì. Grazie a tutti i amici. Presentatevi ragazzi, tu sei? Sono bene. Tu sei? Sono fiore. Mi piace la pizza? Sono qui. Sono qui e abbiamo... Un altro amico, scusa, mi presenta. Antonio, vuole sapere il mio parere su questa... Per me è straordinario, è meravigliosa. Un gusto, non ha tesso nulla. Poi questo, questo Corgit, come si chiama? Un Corgit. E' una cosa stupenda. Non ha alterato un minuto. Con loro invece abbiamo avuto questo incontro, perché saranno... loro agli sinistri del lucro donna Luisella, non il lucro donna Luisella. Quindi riserviamo questa sorpresa. E poi vi aggiorneremo in seguito. Quindi avrete un bel da fare, amici cari, perché guardate, donna Luisella... Perché è il piatto? No, 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 per l'amor di Dio, stai benissimo, lo sai, te lo dico sempre. È un bel da fare perché donna Luisella, come si dice a Napoli, è in tutte queste cose, nel senso positivo, non è che si adatta o si appoggia sulle prime cose che vede. Lei, come dite, studia, si, 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 è molto esigente. Si dice manca un piccolo battone a vicino, manca un battone, manca un battone, manca un battone. Le mancano le voglio due. Le voglio due. Grazie, grazie, buon appetito. Grazie. E consumo anche io. Qua ci sta mio marito che... Vediamo il parere del suo... Claudio, il parere dell'oggi? Claudio, scortesemente, il tuo parere è un parere grosso. Il parere è buono, è un buon impasto, è una novità, prima di tutto, innanzitutto. Questo è giusto da dire. È un buon connubio tra l'impasto e questo gogi. Bene, bravo, bravo. Anche noi. Scusa un attimo, vedi la differenza tra la moglie e il marito, lì è sintetica. Lei è... E invece io dico un bellissimo connubio tra la tradizione e il università. Quindi il gogi, con la tradizione di nonna Nutella, con una pizza buonissima, diventa veramente ancora più bella del solito. Perché oltre a nutrirti di una pizza buona, è anche una pizza che ha un valore di unico importante. Nutrizionale, grazie, grazie. Ecco qua un altro amico che sta citando Pulis, con telefonine. Non so se ci copiamo le battute o gli intervisti. No, no, nel modo più assoluto. No, sto scherzando, sto scherzando. Io sono il direttore commerciale del gogi italiano, il quale oggi, con piacere, siamo qui da donna Luisella. Vedo che la mangia con gusto, perché fa bene alla pelle, fa bene ai capelli, fa bene alle unghie. Infatti, manteniamo l'immagine di donna Luisella. Esatto, la bellezza non è un caso, ma è semplicemente una tradizione. Quindi la bellezza è ciò che è l'essenza di questo prodotto eccezionale, coltivato 100% made in Italy, che fa bene. La cosa importante è questa, l'ultraceutica è il domani del mondo principale. Ok, grazie, grazie ragazzi, buona appena a tutti.